Prima di avviare il video, ti invito gentilmente a premere il pulsante di iscrizione e a lasciare un mi piace. La tua partecipazione è molto apprezzata. Grazie. Il 31 agosto, Enzo Iacchetti ha festeggiato il suo settantesimo compleanno, un'età che spesso ci porta a riflettere sulla nostra vita. Questo comico e conduttore televisivo non è stato da meno, e ha deciso di condividere alcuni pensieri con il mondo. In una lunga e sincera intervista al Corriere della Sera, ha aperto il suo cuore, parlando sia della sua carriera professionale che della sua vita personale. Ma ciò che ha colpito profondamente nel suo racconto è stata la figura del padre, scomparso quando Enzo era ancora un giovane. Ha condiviso un rimpianto che lo ha perseguitato per anni, l'errore che non avrei voluto commettere è stato non aver mai parlato con mio padre. Non andavo mai a trovarlo, avevo 21 anni quando è morto a soli 57, e vivo ancora questo senso di colpa. Eppure, ironicamente, è stato proprio il padre a ispirarlo Iei farlo scoprire la sua passione per il palcoscenico. Un giorno, quasi per scherzo, lo portò a uno spettacolo all'oratorio, e quel momento fu un vero e proprio punto di svolta nella vita di Enzo Iacchetti. È un racconto struggente, che lo emoziona ad ogni parola, un legame indissolubile che non riesce ancora a superare. Nonostante siano passati così tanti anni, punto ora voglio sentire cosa ne pensate voi, cari spettatori. Vi invito a condividere i vostri pensieri e le vostre esperienze nei commenti sotto il video. Grazie per essere stati qui con noi oggi, e aspetto con ansia di leggere i vostri commenti. E non vi dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessun video.